A scuola Io ho sentito dire a scuola che questa barca la volete rottamare Questa barca? La volete rottamare? Eh, io non lo so questo Lo so stammare la barca? No, lo so stammare la barca? Tu un po' a scuola? Sono accompagnata nella vita Pesca Geppino, qui il faro punta della Madonna, 40 gradi, 53 primi, 8 secondi nord, 12 gradi, 53 primi, 8 secondi est, confermate la vostra posizione, non ricevo risposta, non abbiate paura, continuo a chiamare. Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche, le ho viste di tutti i colori, il bianco e il bianco, pare che non venivano mai, migliaia, vinte, poi animali morti, vaccini morti, che poi coprivano tutto con la calce, cami e cami di calci che buttavano dopo quest'animale, la vacca, la vaccina, poi c'era la vacca, capire molto, poteva andare, poteva andare, poteva andare, poteva lasciare stare. Sottotitoli e delle caratteristiche,